Buongiorno a tutti, questa è Kiev. Qui si deve cercare di fare la storia come ai tempi del triplete. Fa abbastanza freddo, nel senso che per fortuna si gioca alle 18.45 italiane, ma... Meno male, perché poi ci sono 4-5 gradi e per fortuna si gioca adesso e non tra un mese, perché sarebbe stato un gelo totale e un fattore. A Kiev, dove ai tempi del triplete l'Inter praticamente passò dall'inferno per poi qualificarsi e andare a vincere una storica Champions, che rimane l'ultima vittoria italiana in Europa, a Kiev dove l'anno scorso l'Inter è stata presa in giro dal destino con quella partita incredibile, pali, traverse, a tu per tu, mille salvataggi, miracoli del portiere Trubin che oggi ha già anticipato De Zerbi, andrà in panchina perché gioca Piatov, il vecchio che non è mai stato molto una sicurezza, quindi potrebbe essere un motivo di fiducia in più per i Nerazzurri, per cercare di raddrizzare il cammino europeo dopo la sconfitta immeritatissima contro il Real Madrid alla prima giornata, oggi veramente giorno storico, molto importante, vi ho fatto respirare un po' di Kiev, adesso facciamo il solito menù con quello che ci attende perché si fa la storia, bisogna riprendersi, bisogna divertirsi come il nostro titolo, come vuole Simone Inzaghi che ha detto divertiamoci, allora non c'è un divertimento migliore dell'occhiale scaramantico carico per questa partita così importante, poi le figurine del nipotino, come al solito Samir, criticatissimo, ma da rispettare, che può essere decisivo lo stemmone del passato e poi la figurina che ci ha mandato Carmine, che ci ha mandato Mbarella in maglia azzurra, campione d'Europa, che ha esordito proprio contro l'Ucraina in nazionale e che oggi, dopo i cinque assist già messi a segno in questo straordinario inizio di stagione, che lo elevano sempre di più a top player, può fare qualcosa di storico, prendersi l'Inter sulle spalle insieme a Lautaro, insieme a Dzeko, insieme al resto della squadra e provare a fare meglio, una cosa mi ha colpito molto, non so se voglia mettere le mani avanti o se fosse sincero, però non mi pare uno che abbia paura di dire quello che pensa Roberto De Zerbi, ha detto, secondo me l'Inter è più forte di quella dell'anno scorso, ok che ha perso Lukaku e Hakimi, non c'è più Conte, ma Inzaghi la fa giocare molto bene e in più c'è una consapevolezza, una forza nei propri mezzi, una convinzione che non c'erano l'anno passato, che sono cresciuti col passare del tempo e stasera ne avremo una riprova, una risposta in una partita così decisiva subito, anche se tutti non lo dicono, è assolutamente decisiva, soprattutto se dovesse vincere l'Inter, sarebbe quasi eliminare lo Shakhtar dopo la sconfitta con lo Sheriff, l'importante è non perdere, ma vincere farebbe molto la differenza, probabile formazione, ci sono un paio di dubbi che Inzaghi risolverà proprio nell'ultimissima rifinitura, qui a pochi chilometri rifacciamo vedere, proprio di fronte c'è lo stadio e qui c'è Kiev, che come vedete si è svegliata, è operosa, c'è molto traffico. Dicevamo, un paio di dubbi da risolvere, di formazione con la solita alternanza sulla fascia destra in cui dovrebbe rivedersi sto giro Dunfries al posto di un Darmian che è molto stanco, che ha giocato sia a Firenze che con l'Atalanta, Dunfries è entrato sempre bene anche nell'ultima partita, dubbio a destra e dubbio a centrocampo dove, come sosteniamo da parecchio tempo, c'è un Vessino che chiede un po' spazio, che offre più quadratura rispetto a un Cialanoglu che invece è apparso ancora da costruire, un po' stanco anche lui. Dubbio a centrocampo, difesa non si tocca, Andanovic non si tocca nonostante tante critiche irrispettose, Andanovic con De Vrijskrini a Rebastoni in difesa, poi centrocampo, l'abbiamo detto, il dubbio tra Vessino e Cialanoglu con Barella Brozovic che non si toccano, Dunfries a destra, mettiamo Perisic a sinistra e poi là davanti non ci sono invece dubbi, con Dzeko e Lautaro, 9 gol in questo inizio di stagione, 5 per il Cigno, 4 per il Toro, il Toro e il Cigno per provare a riportare nel percorso giusto l'Inter in Europa con Correa e Vidal, buone notizie che fanno parte della comitiva, che hanno superato i loro problemi fisici e che possono dare magari qualche minuto prezioso con un Inzaghi che come capiamo e sappiamo molto bene sfrutta sempre al massimo i suoi cinque cambi e cerca in tutti i modi di anche far la differenza, come è riuscito anche con l'Atalanta, con le sostituzioni. Questo quanto, 18.45 italiane, infiniti, per vedervi la partita, mi raccomando, ore 13 invece, su Italia 1, le ultimissime, cercheremo di dirvi la formazione e farvi respirare ancora un po' di più l'atmosfera di Kiev per cercare di fare la storia e di rimettere tutte le cose al loro posto dopo quella brutta sconfitta con Real Madrid che non ci stava proprio a tutti i supercritici, i pessimisti cosmici, intanto qua ci siamo persi un attimo la luce, la recuperiamo, eccoci qui, si fa quel che si può in trasferta con mezzi di fortuna, ma come ieri non vi vogliamo mai far mancare il vostro guido, il vostro, diciamo, video quotidiano e per questo, anche se è finto, il tè caldo c'è sempre, anzi è già pronto, eccolo qua, già pronto, qui ci offrono un green tea, green tea, se si vede, qua ancora che cala la luce, eccolo qua, un bel green tea, ok, e per non farvi mancare niente, anche se è fasullo, proviamo in qualche modo, intanto ringraziamo Carmine, che ci ha mandato... Scusate, stavamo cercando per non far mancare nulla, perché oggi si fa la storia, non riusciamo, non riusciamo, comunque ringraziamo Carmine, speriamo che qualcuno anche lo imiti, che ci mandi qualche bel... qualche bel messaggio e soprattutto qualche figurina, visto che oggi si fa la storia, anche se non è quello solito, eccolo qua, in qualche modo è arrivato, anche se lo sappiamo che è un'artifizio, il Dean più famoso di youtuber per prepararci alla partita di questa sera, adesso un po' di vostri messaggi, sono contento che vi sia piaciuto il video di ieri, sono proprio contento, abbiamo cercato di farvi una rassegna stampa live, prima di prendere l'aereo e prima di imbarcarci per Kiev con Matteo, col giornalista Guido De Carlos del Corriere della Sera, dicevamo un po' di messaggi prima di andare a leggere velocemente la rassegna stampa e i giornali, quindi andiamo a prendere quelli più popolari, supporto, uniti compatti, non fatevi tirare in mezzo dal gioco pericolosissimo di creare tensioni all'interno, di prendercela con quello, con quell'altro, con Andanovic, con Cialanogo, che poi si fa solo il gioco degli avversari che creano problemi, che creano insicurezze, che creano errori, da Inter deve fare come vuoi, Marco Cibelli, non mollare mai anche dall'aeroporto, grandi Barzaghi, a prescindere da dare fiducia a Andanovic, che mi trovo anche d'accordo con un condiviso discorso che non si possa provare in secondo portiere, Doc Leo, è questo un discorso che diventa pericoloso, che fa perdere anche sicurezza a tutta la squadra, Dante Capraro, che spettacolo stamattina, due Barzaghi, un Decaro, che dire sul canale di Marco, solo qualità e professionalità, do la mia disponibilità in caso di assistente per trasferte, sento parlare di fiducia incondizionata, Gaetano Esposito, questa mai, sono professionisti, devono accettare critiche dell'oggio, se Andano non ha più il giusto rendimento, è giusto che venga sostituito, l'altro giorno decisivo a Firenze, adesso già da sostituire, non mi sembra rispettoso, anche perché l'errore, che poi sarebbe stato pesantissimo, è stato cancellato dal VAR, quindi non c'è stato, anche nelle pagelle, dagli un 5 per una cosa che poi non era a gioco, è stata cancellata dal VAR, è inutile. Buongiorno ai Barza Boys, Riccardo Biggi, in un mondo ideale, nelle quattro partite, con Shakhtar e Sheriff, l'Inter dovrebbe fare 10 punti, avremmo la qualificazione in tasca, detto questo, onore alla Nord, lo striscione, onore a Samira, bisogna sostenere i nostri uomini, Cassandra, Mark, di Bari, non ci sono casi, c'è solo tanto lavoro da fare a migliorarsi, noi tifosi dobbiamo avere equilibrio nelle valutazioni, sia in negativo che in positivo. Quest'anno dobbiamo solo essere competitivi e non pretendere vincere obbligatoriamente un titolo, ve l'ha detto però anche De Zerbi, ve l'ho detto prima, secondo lui l'Inter è più forte, e non solo secondo lui. Viva Marco e Matteo, Marco il nero azzurro, viva la double, massimo affetto e fiducia per Samira, tuttavia nella prossima stagione bisogna pensare al futuro, e qui vi ripeto, Onana, che si potrebbe anche anticipare a gennaio, ma non credo, però c'è un accordo abbastanza forte, che non penso che sia in discussione, anche se ci saranno altre squadre che già a gennaio ci riproveranno 24 anni a zero, non penso che ci sia di meglio in tutto il mercato europeo. Bisogna dar fiducia a tutti e aspettare, i conti si fanno alla fine, forza l'Inter sempre buon viaggio, Francisco Pilar Rinaldi, Paolo Gangemi, grazie per questa splendida sorpresa mattutina, i tuoi eccellenti e competenti ospiti, poi io stravedo per i Varza Brothers, grazie Paolo. Ragazzi bisogna avere fiducia a Dolores, secondo me in Italia siamo ancora più forti, Fabrizio Rossi se la prende un po' con Nandanovic, che secondo lui ha il brutto vizio di battezzare fuori molti tiri, ho fatto il portiere, deve sempre buttarti e cercare di prenderle tutte. Wow, un lunedì mattina così col botto, con una coppia così nel canale, altro che campionato, sarà Champions, doppio talismano, portafortuna, bravi e super professionali, grazie Cosimo, e mi fa piacere, grazie a Gianna, grazie a Cristian Garacci, buon viaggio a fratelli Varzaghi, un buon lavoro naturalmente, Marco non ci fai scappare nulla, informazioni continue, grazie per il tuo lavoro vecino, potrebbe essere che quel calciatore che può fare l'affitto tra centrocampo e difesa, speriamo bene, buon lavoro, grande, diciamo MB è giusto difendere la squadra, perché danno tutto, è innegabile, ma andano vicino indiscutibilmente in fase calante, negarlo sarebbe ipocrita, ma anche crocifiggerlo non mi sta bene. Direi questi un po' di vostri messaggi, adesso un po' di notizie da Sport Mediaset, da dove potete vedervi il video, alla mia intervista esclusiva a De Vrij, integrale, una battuta alle 13 su Italia 1, intervista anche a De Zerbi, la UEFA intanto alza bandiera bianca, nulla al procedimento contro Juve Reale e Barca, contro i ribelli della Super Lega, poi Inzaghi, lo Shakhtar vorrà crearci dei problemi, ma non sarà decisiva De Zerbi, Inter più consapevole e convinta, Inzaghi il tecnico giusto, questo quanto su Sport Mediaset col Tottenham, che avrebbe pronti paratici 135 milioni per De Ligt e Kuluseski, i due suoi acquisti per riportarli a lavorare con lui. Un accenno anche al pareggio tra Torino e Venezia di ieri nel posticipo, ma direi che andiamo a leggerci la Gazzetta dello Sport, vediamo di andare subito con una prima pagina dedicata a Inter e Milan, qui dobbiamo stare attenti alla luce che a volte se ne va, dicevamo Inter e Milan chiamate a due risposte importanti dopo le sconfitte con Liverpool e Real Madrid, Ciolo a noi due con l'Atletico Madrid che farà visita al Milan stasera a San Siro, con il Ciolo che ritorna a San Siro, e poi Inter a voi due, ci sono Gekko e Lautaro in copertina, Lautaro Gekko all'assalto dello Shakhtar di De Zerbi con Inzaghi, i derby tra amici, ricordatevi che a Chieve è nato il triplete, le parole di Giulio Cesar, andiamo all'interno della Gazzetta dello Sport, piano piano siamo all'estero, non è così rapida, Barella signore dell'assist, Lautaro pronto a fare scintille, l'Azzurro sempre più al top in Europa, dai suoi passaggi nascono i gol del Toro contro lo Shakhtar Selver, il loro feeling, la formazione quella che vi ho detto anch'io, col dubbio Ciaranaglu, Vessino in mezzo al campo, Lautaro e Gekko, Dunfris a destra, Pesic a sinistra, Barella e Brozovic con Vessino, Skriniar, De Vrij, Bastoni e poi Andanovic. I campioni dell'Italia, dell'Europa e dell'America sono loro due, vale pure sotto il cielo grigio di Kiev, dove l'inverno ancora non si è affacciato, ma il solo ha già deciso che basta, il più è fatto, il fiume Dnipro, rigorosa dicitura ucraina, niente Znepr, è in queste settimane il livello più basso dell'anno, non è tempo di precipitazione ancora, non è neppure tempo di precipitare per l'Inter, appesa come mai all'asse che tutti i sogni ricostruisce, qua mi cala sempre la luce, ricostruisce la Champions in campionato, Barella e Lautaro parlano la stessa lingua, non è l'ucraino, ma la capiscono bene in tutti gli stadi, metterebbero d'accordo pure il cosmonauta e la contadina di uno spot storico, quello dell'Atlanta e del Corriere, della sera di metà anni 90, caccai russa, Russia e to' Ucraina, ma queste cose un po' di nicchia. Poi sulla formazione, dubbio d'unfris d'Armian, Vessino insidia a Cialanoglu, la visione di Lucesco, i soldi di Akhmetov, ecco il Brasile ed Ucraina, lo Shakhtar Donetsk, che ormai da anni gioca a Chiam, la sua terra è ormai falcidiata dalla guerra, da tempo, inzaghi dei zerbi, deve il gioco, il duello dei giovani, accende la Coppa, nati negli anni 70, portati allo spettacolo, Shakhtar Inter, un confronto tra amici, Roberto con Simone, sono migliorati, quarantenni in gamba, i complimenti del tecnico nero-azzurro, lo Shakhtar è ben allenato, si vede la mano di Roberto, mentre Ancelotti aspetta lo Sheriff, criticatemi pure le parole da Madrid, e poi arrivano quelle di Giulio Cesar, l'abbraccio di Mourinho, l'urlo di Snyder, Chieve nel destino, lì è nato il triplete, l'ex portiere, ricorda una città simbolo della cavalcata 2010, in Ucraina l'ha svolta, anche questa Inter, può arrivare in finale, un Inter che era praticamente eliminata, ma poi riuscì a ribaltarla, dopo il gol di Snyder, e l'abbraccio di Mourinho, e la storia che deve cercare di tornare, andiamo a leggere anche il Corriere della Sera, velocemente, fantasmi da scacciare, i fantasmi sono quelli delle qualificazioni agli ottavi, che negli ultimi anni sono sempre sfuggite all'ultima giornata, e l'anno scorso sono sfuggite con quel pareggio, a San Siro contro lo Shakhtar, ma anche con una delle partite, credo, più sfortunate di sempre, proprio qui a Kiev, con due traverse, tu, Lautaro, poi i miracoli del portiere, un sacco di errori a tu per tu, 1200 occasioni contro zero, Nerazzurri a Kiev contro lo Shakhtar, di De Zerbi per vincere, in Zaghi siamo una squadra offensiva, ci vuole più equilibrio, un incrocio pericoloso, e si rischia di sbattere, farsi molto male, l'hanno passato, Inter e Shakhtar si annullarono con un doppio 0-0, costò la Champions a entrambe, ucraini in retrocesso in Europa League, Nerazzurri, escusi dalle coppe, non siamo ancora i verdetti definitivi, ma il derby italiano tra in Zaghi e De Zerbi, allenatori emergenti affamati, nati a 80 km uno dall'altro, può affossare o far prendere la giusta piega al girone, non è un match decisivo, di certo è molto importante, da mette tecnico interista, abbiamo entrambe perso l'esordio, ma sono sconfitte diverse, l'Inter l'ha battuta in Real, noi lo Sheriff che non era più forte, sottolinea con onestà e amarezza De Zerbi, un altro K.O. taglierebbe fuori dalla Champions, lo Shakhtar, secondo in campionato atteso domenica, dalla sfida con la capolista Dinamo Kiev, l'Inter però rivede i fantasmi delle ultime tre edizioni, quando mai ha superato il girone, in Zaghi e lo Shakhtar aveva fatto gol 21 anni fa, in Champions con la Lazio, ha bisogno di blindare la porta, sempre aperta nelle ultime sei partite, un match che può lasciare per strada uno dei due, una sfida tra filosofie che si strizzano l'occhio, pur con moduli differenti, la scuola offensiva, non spregiudicata di De Zerbi, orgoglio di rappresentare l'Italia in Ucraina, di allenare lo Shakhtar, rimarca il tecnico, non è distante dall'approccio di Inzaghi, siamo una squadra offensiva, a cui piace sviluppare in ampiezza, qualche errore tecnico di troppo ci porta, a subire dolorose ripartenze, direi che ci siamo anche per oggi, pronti per fare la storia, occhiali scaramantici in ricarica, sugli altri social vi faremo vivere ancora un po' di più, questa attesa, questa sfida, questo freddo ucraino, questa città che ha fatto nascere il triplete, vedremo se farà nascere la nuova creatura di Simone il Bello, che si vuole divertire, che vuole fare un calcio migliore di quello di chi l'ha preceduto, vedremo se si riuscirà a fare, il Corriere dello Sport come al solito, mette l'accento anche in prima pagina, sui problemi economici di Suning, secondo l'indiscrezione del Corriere dello, secondo il Sole 24 ore, ci sarebbero le banche pronte a rivalersi sulle proprietà italiane di Steven Zhang, ma non dovrebbe riguardare l'Inter, anche perché la prima a rivalersi dovrebbe essere Oktri, quindi nel peggiore dei casi, che non credo proprio, ma che non si può escludere nulla, dovrebbe diventare di Oktri, l'Inter torna alla Champions in Zaglia, casa dei Zerbi, l'Inter per la svolta, ma Zhang è nel mirino, banche pronte a rivalersi sui beni italiani del Presidente, andiamo all'interno, sulla sfida non ci sono novità, anche qui focus su Barella, l'Europa ti chiama, fresco del titolo continentale, ancora lui a tirare il gruppo, con Inzaghi come con Conte, il centrocampista è stato sempre protagonista nelle prime sei giornate, formazione per il Corriere dello Sport con Cialanoglu, Inzaghi ma non è una gara decisiva, la De Zerbi voglia un calcio giocoso, e poi l'impero Zhang vacilla, caccia i beni di Steven, debiti per 250 milioni, possibili sequestri conservativi di asset italiani, ma l'Inter date le azioni, impegno a Oktri, dovrebbe essere al riparo, il club si è garantito l'autosufficienza per l'immediato, il futuro è nebuloso, questa è la situazione, diamo uno sguardo giusto per non farci mancare nulla, anche da Kiev a Tutto Sport, poi andiamo a farci una bella colazione, un tè caldo tutti insieme, figurine arrivate, anche quelle di Carmine, insieme alla sciarpa dello scudetto, mi ha mandato anche quella, e appena torniamo la rimettiamo, la mettiamo lì a fare la differenza, Ossigeno Champions con Inter e Milan in prima pagina su Tutto Sport, le parole di Agnelli, non siamo finiti, e le milanesi che provano a rinascere in Europa, in zaghi al primo bivio, l'Inter mi diverte, serve però più equilibrio con lo Shakhtar, gara importante, la reazione con l'Atalanta mi ha rassicurato, De Zerbi, Shakhtar giovane e in crescita, avanti in Champions, a titolo per la crisi, in passato le precoci eliminazioni sono costate 60 milioni di nero azzurri, da Hong Kong, una sentenza che rischia di pesare sulle quote di Steven Zhang, negli ultimi giorni sono tornate a circolare voci su possibili movimenti intorno all'Inter, indiscrezioni al momento non confermate, in ogni caso dal CAB filtra che la proprietà potrebbe cercare al massimo acquirenti per quote di minoranza, anche se questo approccio di Suning deve fare i conti con l'accordo concluso la scorsa primavera con Oktri, e il prestito di 275 milioni per mettere in sicurezza l'Inter, da quel momento lo statuto del club ha subito alcune modifiche che neutralizzano il potere di chi ha meno del 35% delle azioni, quindi chi volesse entrare nell'Inter per contare qualcosa dovrebbe comprare più di quella soglia, il fondo californiano vigila sulla società, le notizie in arrivo dalla Cina sembrano mettere Suning sempre più nell'angolo, un motivo in più per superare finalmente l'ostacolo, al girone di Champions come ci auguriamo tutti, come speriamo con una grande partita, vediamo un po' ancora di Kiev e di cosa succede di fronte allo stadio, pronti all'edizione di Sport Mediaset, alla colazione tutti insieme, mi raccomando sempre sintonizzati, non vi facciamo mai mancare nulla.